Piperbanca. Vicina. Oltre alle attese. Aumentano tra i consumatori modenesi le controversie legate agli acquisti online. Lo segnala Adiconsum, l'associazione dei consumatori della CISL Emilia Centrale. I nuovi consumatori sono sempre più digitali, ma non tutti sono in grado di verificare l'attendibilità e la sicurezza di un sito commerciale. Per questo sono in aumento i problemi legati a questo tipo di acquisti. Sentiamo Adele Chiara Cangini, responsabile Adiconsum Emilia Centrale. Allora, acquisti online, situazione molto complicata perché a volte si corre il pericolo di andare incontro a truffe. Sì, esattamente. Diciamo che l'effetto collaterale del Covid non è soltanto medico. È anche riguardante appunto gli acquisti online che hanno avuto un aumento esponenziale durante il lockdown. Le persone acquistano beni di prima necessità come cose che non sono di prima necessità. Abbiamo imparato a fare la spesa online. Purtroppo, in mezzo a tutti questi siti, diciamo, autorizzati, ce ne sono tantissimi che sono creati da persone con l'intento di truffare il consumatore. Ecco, una situazione che sta così via via peggiorando, diciamo, perché aumentano gli acquisti online dovuto anche all'emergenza Covid. Esattamente, aumentano le richieste di aiuto per chi ha acquistato prodotti che non ha ricevuto, per chi ha versato caparre per appartamenti inesistenti, per chi ha ancora acquistato su siti che poi sono risultati con sedi legali all'estero e la possibilità di recuperare il denaro è molto difficile e lunga. Quindi bisogna prestare la massima attenzione. Quali sono i vostri consigli? I nostri consigli sono quelli di verificare sempre l'attendibilità del sito. Un sito che vende online deve avere le condizioni generali di vendita e le condizioni generali di contratto. È importante capire dove è l'essere legale dell'azienda, magari anche verificando eventuali critiche sui principali motori di ricerca, proprio per vedere se altre persone sono state, diciamo, truffate dallo stesso sito. I vostri uffici comunque restano a disposizione? Assolutamente sì. Noi restiamo a disposizione di chi ha bisogno di fare reclami, naturalmente con la consapevolezza che si farà tutto il possibile, ma a volte risulta complicato. Quindi mantenere l'allerta molto alta anche alle mail di phishing che vengono inviate da finte banche o assicurazioni. E ovviamente i tempi e denaro nel senso che bisogna fare in fretta? Sì, la tempestività è tutto, io lo dico sempre. Se c'è una soluzione la si trova, ma bisogna essere tempestivi nella richiesta di aiuto. Sono in aumento le segnalazioni di riciclaggio a Modena, secondo il report della Banca d'Italia. Nel secondo semestre del 2021 a Modena e provincia sono aumentate di oltre il 25% le segnalazioni di reati fiscali, arrivando a quota 1.326. Un quadro sempre più preoccupante, secondo il coordinamento legalità della CGL di Modena. Sì, sono dati che purtroppo aggravano la situazione degli ultimi tempi con il Covid e purtroppo anche questo virus del riciclaggio non tende a scendere, ma purtroppo tende a salire fortemente in questi nostri territori, nelle province della regione Emilia-Romagna, in particolare sulle province di Modena e di Bologna. Perché se l'Emilia-Romagna nell'ultimo anno arriva circa a quasi 10.000 segnalazioni sul presunto riciclaggio nell'anno trascorso, Bologna è la provincia che ne ha di più, ma Modena è la provincia che cresce di più in percentuale. Per cui noi abbiamo in questa provincia 1.326 segnalazioni di riciclaggio con un incremento del più 25,1% rispetto all'anno trascorso. Quindi è assolutamente preoccupante. E chi ne parla? Ecco, ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno, dietro il fenomeno del riciclaggio? Il riciclaggio, lo dice la parola, è una metodologia purtroppo, come abbiamo visto dai dati, sempre più diffusa, che coinvolge l'imprenditoria e con la collaborazione del mondo degli uffici, dei consulenti, uffici legali, degli avvocati, è il modo per tentare di mettere in chiaro, di mettere in regola i fondi neri, che sempre più con, purtroppo, i metodi di economia irregolare, di economia illegale, vengono diffusi. Cosa vuol dire? Vuol dire il lavoro nero, il lavoro irregolare, i falsi contratti, le false partite IVA, le truffe fiscali, l'evasione contributiva, insomma, tutte queste cose che purtroppo in questi nostri territori, altri dati dell'INE, degli spettrati di lavoro, dicono che sono in forte crescita. Un'italiana per la prima volta al vertice dell'EPCF, l'European Parliament Ceramics Forum, il gruppo interparlamentare che si pone come luogo di approfondimento e discussione sulle tematiche del settore ceramico, e l'europarlamentare Elisabetta Gualmini, docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, nella scorsa legislatura vicepresidente della Regione Mille-Romagna. Ci spiega quali sono le sue priorità? Sì, un incarico molto importante, sono davvero molto onorata, divento la prima italiana presidente del Forum Europeo delle Ceramiche Unite, un forum molto importante che ha sede a Bruxelles, che riunisce oltre a parlamentari europei, anche tutte le organizzazioni che rappresentano i comparti ceramici di tutti i paesi europei. È una fase estremamente delicata questa, perché la ripresa economica che speriamo ci sia e continui dopo la pandemia, ha però delle luci e delle ombre. È stata una ripresa economica molto rapida per alcuni settori, pensiamo anche solo al bonus 110, quanto ha promosso e scatenato attività nel settore edile, che vanno benissimo, però, come altro lato della medaglia, abbiamo il problema del caro bollette, del rincaro dei prezzi dell'energia. Problema che anche per il settore delle ceramiche sta diventando drammatico, perché il costo del gas nel giro di un anno sostanzialmente, e con un'accelerazione negli scorsi mesi, è aumentato di oltre il 500%, quindi sta diventando un costo quasi insostenibile, il costo dell'elettricità pure, e quindi se noi non aiutiamo questi settori ad essere inclusi nella normativa europea sugli aiuti di Stato, cioè su aiuti compensativi, per poter assecondare il passaggio anche ad altri modelli di sviluppo, ad una transizione ecologica più efficace, ecco, questi settori però rischiano di chiudere. Sì, siamo molto contenti in italiana, modenese, competente, sono cose che nel mondo politico cominciano a crescere ed è un segnale molto, molto positivo, avere della competenza, della conoscenza nelle rappresentanze politiche per i settori che hanno bisogno di lavorare è importantissimo. Quali sono i vostri temi sul tavolo? I nostri temi sul tavolo sono la correzione della legge ETS che ha bisogno di, parlando verso l'Europa, ha bisogno di essere liberata dalla speculazione e l'inclusione nella lista di quelle attività, di quei settori che possono beneficiare dell'esclusione degli oneri di sistema sull'energia elettrica. Signor Presidente, lei ha già parlato anche della bretella ancora una volta, a che punto siamo? Non so più niente, quindi questa è una brutta risposta che mi sento di dover dare. Questa crisi energetica adesso poi ha messo fuori causa un po' tutte le altre attività. È chiaro però che un paese può fare bene una transizione ecologica, energetica, se ha anche le infrastrutture, perché quanto consumo un camion di qui adesso, che si mette un'ora ad andare a Campo Galliano e quando potrebbe metterci solamente un quarto d'ora. Si fa presto. Non avete perso le speranze però? La speranza non si perde mai, però sono passati ormai quattro anni dal mio insediamento e io non ho visto muovere niente. Ha superato i 287.000 utenti VisitModena.it, nuovo portale di promozione turistica della città che ha compiuto un anno il 31 gennaio scorso, con oltre 1.250.000 pagine visualizzate e una percentuale di nuovi contanti pari a circa l'83%, un dato in crescita costante che ha assegnato dei picchi in corrispondenza della campagna di advertising e tempo di Modena. Per celebrare il compleanno, sul sito sarà pubblicato il primo video della serie Una finestra su Modena, che va alla ricerca delle particolarità e dei tratti distintivi della città. La prima puntata, cui ne seguiranno altre cinque, si intitola Parole, la vediamo in queste immagini, ed è dedicata ai modi di dire dialettali modenesi. Parallelamente saranno realizzati e pubblicati altri sei video dedicati alla storia e alla cultura della città. Il portale contiene 2.100 schede su luoghi di visita, eventi, itinerari ed esperienze. Tra gli utenti, circa il 91% proviene dall'Italia e in particolare dalle province di Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze. I turisti dall'estero, poco meno del 10% del totale, provengono soprattutto dagli Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia. Sì, una porta d'accesso che è stata rinnovata interamente un anno fa e che ha dato, direi, ottimi risultati. Effettivamente i turisti e gli appassionati, gli interessati al nostro territorio, sia nazionali che internazionali, hanno dimostrato di apprezzare questa porta di accesso, questo racconto del nostro territorio, in collaborazione naturalmente con la destinazione turistica Bologna-Modena, con la regione Emilia-Romagna, con APT regionale e con le associazioni economiche e con i privati, che naturalmente sempre ringraziamo per il loro straordinario lavoro in questo frangente difficilissimo. I numeri sono, come avete potuto sentire, molto positivi, anche le percentuali di visita dal resto d'Italia e dall'Europa e a livello internazionale. Si è chiuso il 2021, con quali risultati? Tutto sommato risultati buoni, anche se rispetto al passato pre-pandemia naturalmente i numeri sono ancora molto bassi e anche i risultati economici ovviamente, quindi il settore è un settore che ha forti bisogno di stabilità e di ripresa di quei flussi che conoscevamo appunto sia nazionali che internazionali, ma i segnali ci sono tutti, sono positivi. Gli ultimi weekend del 2021 ci hanno fatto tornare, diciamo, ai numeri pre-pandemia e quindi ci immaginiamo nel 2022 che con una stabilizzazione delle regole anti-Covid ci possa essere quella ripresa turistica che tutti noi aspettiamo. Ecco appunto, lei ha parlato del 2022, cosa avete in programma? Ancora molti investimenti sugli strumenti molteplici digitali e sulle attività di promozione che abbiamo messo in campo durante la pandemia perché le abitudini dei turisti mediamente sono cambiate, non si sono stravolte ma sicuramente sono cambiate, quindi l'evoluzione nostra è utile ad essere sempre più efficaci per andare a raggiungere chi in modo organizzato o anche in modo spontaneo desidera fare un soggiorno anche lungo city break, quello che viene definito la vacanza breve, diciamo, sul nostro territorio. Novità Castelfranco-Emilia nella comunicazione tra l'amministrazione e i cittadini. Il Comune ha infatti deciso di attivare l'applicazione Comunichiamo per rendere più efficace l'interazione diretta tra cittadini, operatori comunali e autorità. Comunichiamo infatti ha un'app già disponibile per tutti i sistemi operativi che permette di fare segnalazioni alle autorità competenti in modo chiaro, semplice e diretto, riducendo la burocrazia e i tempi di gestione delle segnalazioni, avvicinando così sempre di più la comunità e il territorio all'amministrazione. Funziona con pochi passaggi, basta scaricare l'applicazione sul proprio smartphone, registrare i propri dati anagrafici, scegliere il Comune di appartenenza tra quelli presenti, dopodiché si può accedere a una lista di possibili ambiti in cui descrivere l'evento da segnalare, quali ad esempio strade, illuminazione, segnaletica, decoro urbano, rifiuti, acqua, verde pubblico, edifici pubblici, servizi pubblici e animali, arredo urbano e piste ciclabili. La segnalazione, descritta dall'utente, arriverà automaticamente all'ufficio di competenza che una volta ricevuto l'avviso si occuperà di rispondere al cittadino, il quale riceverà una risposta dall'operatore competente con il riscontro oggettivo sulla segnalazione inviata. Il senso di questa novità, l'utilizzo di questo nuovo strumento Comunichiamo, serve innanzitutto per avvicinare i cittadini all'amministrazione e per trasformare le lamentele magari fatte sui social in maniera sterile in qualcosa di efficace e soprattutto rendere più efficiente anche l'azione amministrativa. Attraverso una proprietezza e un canale di comunicazione ufficiale possiamo accogliere le segnalazioni che vengono fatte dai cittadini e su tutto il territorio con questo strumento a cui noi possiamo dare risposta. Risposta che non necessariamente può essere o è positiva, ma almeno c'è una presa in carico e comunque viene dato un ritorno all'utente segnalante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.